Uno, sette, tre, cinque, quattro, tre, 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 uno, uno, via! Vai! Oh ma un po' di caso! Vai! Vai! Andiamo dai! Vai, teff, vai! Guarda qui! Io non ho messo, guarda qui, 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 qui. Vai, gioia! Ok, ok, la gioia sta lì, vedi? Uno, due, tre, quattro, sette, 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 sette! Io avancio, 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 avancio! Vai, la fase da nave tranquilla! Vai! Guarda qui! E ora tutti a casa!